Dalla calabria di questa donna carica di energia, la calabria di un uomo la cui energia non si spegnerà mai. Lui ha chiuso i suoi begli occhi azzurri, ma noi lo ricordiamo con infinito amore. Lo facciamo, adesso vi diciamo chi sia, lo facciamo con Mariano Sabatini che è un giornalista, scrittore, autore televisivo. Tra i migliori sono passati cinque anni da quando se n'è andato lui, Luciano Rispoli. E noi gli mandiamo un bacio che gli arrivi, gli arriverà, gli arriverà di sicuro. Era il 26 ottobre del 2016. Mariano è, come posso dire, la persona più giusta, più adatta, più vera per raccontare questo Luciano Rispoli che tu sei riuscito a incontrare in un modo molto particolare e che è stato da quel momento in poi il tuo papà televisivo e tu il suo figlio. Sì, intanto ti voglio ringraziare perché hai accolto un desiderio ed è significativo che lo facciamo su TV2000 e non sulla Rai senza voler fare troppa polemica, ma insomma un pochino sì e quindi Luciano è stato un affetto ed è un affetto profondo della mia vita. Un papà, sì, io ho avuto un problema con la figura paterna e Luciano è stato un papà putativo, il papà che avrei desiderato, non perché il mio fosse, però insomma intellettualmente era quello di cui avevo bisogno e a 23 anni mi ha adottato e io ancora lo ricordo con grande piacere. Oh sì, ancora lo ricorda e parleremo di quel quiz, se voi lo ricordate, parola mia, parleremo di tante cose di Luciano Rispoli, di come mettesse gli accenti giusti sulle parole perché questi accenti giusti arrivassero alle nostre orecchie e ci insegnassero una buona lingua attraverso la televisione, ma era tant'altro. Luciano Rispoli ci vediamo tra un attimo, un attimo, un attimo, un attimo e siamo da voi, solo un istante. Il 26 ottobre del 2016 se ne andava Luciano Rispoli, grande signore della televisione, non se ne andranno mai le sue lezioni di buona televisione, anche per quei ragazzini, i ragazzi che lo seguivano, guardavano la tv, uno era Mariano Sabatini, c'era parola mia che era meravigliosa, era il quiz intelligente per capire bene l'italiano e tu inizi a scrivere lettere indirizzandole all'ufficio preposto a Viale Mazzini. No, non proprio all'ufficio preposto, a tutti i personaggi che secondo me potevano, io non sapevo che all'epoca Rispoli era un alto dirigente della RAI, perché ha diretto il Dipartimento Scuola Educazione, ha fatto assistenza a Emanuele Milano, che ben conosci, che era vice direttore generale della RAI, quindi io scrivevo a Costanzo, a Marzullo, a Baudo, a Brando Giordani, all'epoca direttore di RAI 1, per dire fatelo lavorare di più, non fategli fare solo il preserale di RAI 1, che aveva milioni di telespettatori, in un quiz che non era il quiz a risposta multipla o basato sulla fortuna, ma era sulle etimologie, i modi di dire, le belle pagine della letteratura. Io da quel momento, come generazioni di italiani, ho deciso di fare della lingua italiana il mio strumento di lavoro, tant'è meno che conosco solo quella lingua. Allora, però, succede che a un certo punto qualcuno pensa che Rispoli scriva da solo queste lettere, gli dicono, senti, ma c'è un matto o uno pseudonimo? Tale Mariano Sabatini, sarà uno pseudonimo che ti sei trovato, e invece, insomma, alla fine... Soprattutto Claudio Sabelli Fioretti lo prendeva in giro, e quindi io poi avevo iniziato a fare il giornalista, dagli anni 80 siamo arrivati ai primi anni 90, chiamai Luciano Rispoli perché il Tempo, il quotidiano Il Tempo, mi accordò un'intervista a Rispoli che nel frattempo aveva lasciato la RAI ed era passato a Tele Monte Carlo, che è un emittente che ha ospitato anche Paola Saluzzi, e io lo chiamai e lui mi conosceva, ma io la conosco! E allora gli sono arrivato tardi, forse ha già perso un po' il cervello, invece mi conosceva perché tutti quelli che lo incontravano gli parlavano di me. Gli parlavano di questo Mariano Sabatini. La trasmissione era tappeto volante con Mel Baruffo, con Rita Forte, insomma andò così che incontrandosi con il suo Mariano Sabatini, anche se non si erano mai visti, da quel momento in poi è iniziato il vostro lavoro insieme. Allora abbiamo tante cose da raccontarvi, abbiamo un'amica Mel Baruffo che non poteva non mandare questo messaggio e noi ve lo presentiamo così. Ciao Paola, ciao Mariano Sabatini, carissimo! Quello che io ho battesato il rispologo tanto tempo fa. Grazie per aver fatto questo bellissimo articolo che ritratta in corpo, mente e anima, il fantastico uomo che fu Luciano Rispoli, un uomo che ci insegnò a tutti a fare la bella televisione, la televisione educata, accolta, intelligente, garbata, divertente. Io non avrò mai sufficienti parole per ringraziare Luciano, per avermi dato l'opportunità e l'onore di essere a fianco a lui nel suo tappeto volante, quando volava alto e alto, survolando le nuvole insieme alla carissima Rita Forte. Per me anni d'oro che rimangono sempre nel mio cuore. Ringrazio anche Teresa, sua moglie, che è stata lei che gli ha detto a Luciano una consiglia di chiamare per il tuo programma nuovo e così sono apparsa io. Tra tante persone importanti, Luciano ha creduto a me e mi ha detto la prima volta ecco un pesce nell'acqua e mi dissi tu sei nata per restare sullo schermo. Grazie zio Luciano, ti voglio sempre bene. Buon anniversario. Allora, questa, guardate, buon, sapete, quando si dice happy heavenly birthday, quando si parla del giorno in cui si è andati via come un giorno in cui si è rinati a nuova vita. Mel Baruffo con tutto il suo cuore e il suo amore. Rita Forte che verrà molto molto presto a trovarci qui in studio. Rita, grazie per tutto quello che tu hai fatto. E' Mariano, Mariano che ha seguito quest'uomo. Tu lavoravi, scrivevi con lui. Sapeva essere anche molto rigido, rigoroso. Sì, era un professionista inflessibile. Sapeva cosa la televisione, la sua televisione doveva dare al suo pubblico e non derogava in nessun modo. Quando io ho iniziato, avevo 23 anni, mi ha fatto anche piangere, devo dire. Un uomo a cui era impossibile imporre qualcosa. Sembrava così soave e lo era, educato, gentile, civile. La parola civile è quella che gli si attaglia di più. Però l'ho visto scontrarsi con dei potenti che avrebbero voluto imporgli, non so, gli ospiti oppure vietargli il passaggio di alcuni ospiti. Lui si scontrava. Lui si scontrava e vinceva lui. Non c'era nessuna possibilità di passare. Era un uomo tenace. Era un uomo, noi abbiamo anche grazie, e soprattutto e solo grazie a Mariano Sabatini, dei copioni che fra poco vi mostreremo. Ma abbiamo ancora il messaggio di una cara amica, di una donna splendida, che ha saputo lavorare a fianco di Luciano Rispoli nel modo migliore, come sempre. Roberta Capua, ve la presentiamo così. Sono molto felice ed onorata quest'oggi di poter parlare di Luciano Rispoli e ricordare un grande uomo di televisione. inizialmente da dirigente, poi da conduttore, certamente una figura che ha lasciato un segno profondo nella televisione. Troppo poco spesso viene ricordato, quindi grazie, grazie per avermi dato l'opportunità di farmi tornare alla mente quei due anni trascorsi accanto a lui sul divano del tappeto volante, su Telemonte Carlo. Due anni che mi hanno insegnato tantissimo, tantissimo del mio lavoro, che mi hanno reso la persona che sono, la professionista che sono. Il suo modo di essere, il suo modo di intervistare, ha segnato in maniera decisiva tutto quello che lavorativamente è venuto per me dopo quell'esperienza. Sono stati due anni di crescita, sono stati due anni di palestra in qualche modo, in cui lui è stato il mio mentore e quindi grazie. Non posso che dire sempre grazie, grazie, grazie Luciano. È così, ci uniamo anche noi. Eccola qua, la vediamo questa fotografia. Allora, io chiedo al nostro regista, al nostro Alessandro Teresa, di poter inquadrare, spero di tenerlo nel modo migliore, questo piccolo copione, dove Rispoli segnava addirittura, giustamente, non so a quale camera, ecco qua, dove mostrarlo, dove Rispoli segnava gli accenti. Sì, questo lo faceva sempre. Guardate bene. Ecco, sono segnati gli accenti con una precisione, con una attenzione, perché nessuna parola andasse sciupata. Questo era il grande professionista Luciano Rispoli, che fece lavorare personaggi strepitosi della televisione, come Raffaella Carrà. Raffaella Carrà, a cui diede il primo programma radiofonico, perché Boncompagni gli toglieva la testa che voleva far lavorare la sua fidanzata, e lui le diede un nagra, un registratore, pesantissimo, la povera Raffaella, che però non è che ricordava tanto questa cosa, andava in giro a registrare delle interviste, e nacque così Raffaella col microfono a tracolla. Che suona anche bene come Raffaella col microfono a tracolla. Sì, certo. Paolo Villaggio, a cui diede il sabato del villaggio, Paolo Limidi, che faceva il pubblicitario, ebbe il primo programma d'autore, Costanzo. Costanzo, tu ci hai portato questa fotografia, anche qui spero di... Questa me la regalò proprio lui. Ecco, c'è lui giovanissimo. Credo che non sia mai stata vista, perché lui fu assunto nel 54 anno di inaugurazione delle trasmissioni della RAI, dopo un concorso per radiocronisti, e iniziò a lavorare per le radio e telesquadre. Cioè, che facevano questi? Come lui, Enzo Tortora, Silvio Noto, andavano in giro a organizzare degli spettacoli di piazza, con la tuta della RAI, nella foto si vede, e diffondevano questi spettacoli in ambito locale, per indurre la gente a fare l'abbonamento RAI. Ad abbonarsi. Ecco perché questi si chiamano padri fondatori della RAI, perché il servizio pubblico lo hanno proprio... È nato con loro. ...inventato porta a porta. E grazie a loro. Allora, il matrimonio celebrato da padre Pio a San Giovanni Rotondo, un grande uomo di fede, Luciano Rispoli, tre figli, quattro di cui uno mancò, ma un ottimo papà, un uomo che ad un certo punto, piano piano, lentamente lasciò la televisione. Insomma, forse era finito un tempo, era finito un periodo, Mariano? Sì, era finito il tempo dei professionisti totali, come era Luciano Rispoli, che la trasmissione se la cuciva addosso. Sartoriale. Sì, era possibile dargli un format. Questa cosa, quando lui è venuto meno, e ho smesso anch'io, ho lavorato un po' con una signora che si chiama Paola Saluzzi, che un po' fa parte di quella scuola, e a uno mattina, nell'anno delle Torri Gemelle, facevamo il 54-56% di share, ma insomma, dopo un po' ho deciso di dedicarmi solo alla scrittura. Ma ha fatto qualcosa di molto bello dedicandosi solo alla scrittura, leggete questo, scrivere è l'infinito, metodi, rituali, manie dei grandi narratori. Vallecchi di Firenze. Insomma, perché imparare a scrivere, Mariano, è una buona norma, è una buona regola? Beh, sì, la prima cosa sarebbe leggere, perché come diceva Rispoli, la televisione è la televisione, ma un buon libro è sempre un buon libro. E credo che non si possa scrivere, questo lo dicono tutti gli scrittori che ho intervistato, non si possa scrivere senza essere dei grandi lettori. Mariano Sabatini, per ricordare quel Luciano Rispoli, apro e chiudo parentesi, ho iniziato a lavorare grazie a lui, quanto gli devo, Dipartimento, Scuola, Educazione. Mi affidò a un galantuomo che si chiamava Sandro Lai e ancora oggi lo ringrazio per questo, davvero lo ringrazio. Mariano Sabatini, per ricordare lo splendido zio Luciano, che noi con una canzone che lui amava immensamente, oggi salutiamo con un bacio così. Arrivederci alla prossima ora solare. Grazie. Grazie a tutti. So unforgettable Thinks that I am Unforgettable True